Il mondo, benvenuti! Allora ci siamo, è ufficiale, questo è il giorno in cui tenteremo di cambiare la storia di questo paese senza voler fare fanatici, cerchiamo di cambiare la cifra, la cifra, la sostanza di quello che è stato questo paese negli ultimi 30 anni e ci proveremo con la forza di ognuno di noi. Io vorrei che non ci fosse questo palco, vorrei stare lì sotto insieme a voi, ma è uguale perché se no laggiù non ci vedono. Anzi, ciao anche laggiù in fondo! Allora questa sarà una serata, io credo particolare, abbiamo scelto di non avere personaggi famosi, musica, gruppi musicali perché la festa la faremo sui contenuti, visto che ci hanno sempre raccontato che noi sappiamo solo criticare stasera, adesso parleremo di contenuti, di quei contenuti che devono significare una nuova politica perché prima di tutto una concezione culturale nuova, l'Italia che verrà nasce sui banchi di...